il sonetto oltre la spera che più larga gira è l'ultimo testo poetico della vita nova a differenza dei precedenti non parla del passato ma del futuro beatrice è morta da tempo dopo la sua morte dante scrive alcuni componimenti in sua memoria ma l'incontro con una gentile donna giovane e bella molto che aveva avuto compassione del suo stato provoca in lui uno sbandamento la visione di beatrice però lo riporta sulla retta via all'amore della sua giovinezza il sonetto oltre la spera che più larga gira è il resoconto di tale visione